Giulio Favale, nuovo terzino a sinistro del Cesena, hai debuttato sabato, domenica, anzi contro la Virtus Verona, le prime indicazioni dal campo di questa nuova avventura? Sì, sarà un'esperienza magnifica, sono molto felice di far parte di questo progetto e spero che insieme ci troviamo tante soddisfazioni. 22 anni ma ha tantissima esperienza già in Serie C, perché sono quasi un'ottantina di partite con diverse maglie, ti posso chiedere qual è stata l'esperienza, l'avventura più importante nel tuo percorso al momento? Sì, ogni anno mi ha dato qualcosa in più, quindi direi che tutti gli anni sono stati molto importanti per me. Ovviamente a Lucca ho giocato il maggior numero di partite di seguito, l'anno scorso col fatto del Covid c'è stato qualche problema in più, però ho giocato molto anche l'anno scorso, è stato un anno molto importante anche l'anno scorso che abbiamo giocato per vincere, però ogni anno mi sento di dire che è stato un tassellino in più, che ho aggiunto la mia crescita e quindi spero di aggiungere molti tassellini qui a Cesena perché è una piazza importantissima e sono davvero felice.